Non riparo il nostro cammino, poco crede lo saggi all'importuno, lo ricco manco crede allo mischino, lo sazio non crede allo Dio no. Buongiorno, ma sta prendendo soldi? Soldi no, perché? Come perché è posta matta? No, questa è la playstation, quale posta? Come playstation? Sì, puoi aspettare quando uno, invece di fare una fila da intra, si fa una partita a casa, si fa il suo tempo... E' finito di giocare? Perché avete da giocare? Sì, posso giocare? Prego, prego, si è finito, prego. Dove si mettono le soldi? No, se qua si mettono. Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ci vediamo! Ciao! Ciao! Opa, come? Opa, come lì! Onde sta gendo? Niste entro, perché fai me salutare! Stai entro, manco… non puoi prendere nel giornale, ma ne sta gendo, perché, purtroppo mi pare male di tribillo ma... non successeva che cosa brutta? no ma che successe? e allora? mi parliamo magari a te a dire a qui la posta a qui a qui la posta? guarda Giulia figlio mio allora salutamone chissà quando vivremo ora purtroppo c'è qualcosa che capitano entrando qua vai chiacqua qui? mi raccomando madre mia posta Parchini mamma mia posta non c'è problema non c'è problema non c'è problema ma come c'è la porta la posta non c'è piccola non c'è nulla le cose ci fanno non c'è una settimana non c'è la posta ma ti passa la giornata da lì? ti passa la giornata ma ti dice che vissero un medio gioco e vissero un medio gioco ah pure? allora buona buon viaggio e chi dice che si picchino i soldi se ci mettono? nooo se ci mettono ah se ci mettono? eh se ci mettono 50 centesimi quanto? 50 come un bigliettino e va oh Umber dove è stato? avevo due settimane che il signor Maria Parvalonga dove è stato? oh dove è stato? ti senti male? hai stato? a posta hai senso? a posta? a posta a posta quando ti voglio bere a posta a posta vabbè in tanno stai a cercare ti ricordi quando partite? ma mia parval... ma vedi? vedi vedi ma vedi vedi vedo vedi ti ho spiegato un stipendio allora? io stipendio? io io ti ho spiegato un stipendio? ma che faccio allora? mi ricordo perché io ho spiegato pure a 13esima Ti ha detto il tredicesimo? No, il tredicesimo mi ha detto, aspetta, tredici, più tredici, quintisei mi pare che ho. Quintisei e tredici, trentanove. Trentanove, eh? Ma trentanove, un cento ho messo. Come c'è? A trentanove ho messo di trentanove. Mi devi prendere pure un culo. Come devi prendere un culo, Umberto? A settembre del novecento, A trentanove, a dicembre. Sì, dicembre. Dopo dicembre, febbraio. Anche se sei pure un scema, forse ti vedi a diventare. Mi rimbampiero completamente, mi rimbampiero da. Quando l'ho prendeo il trentanove. Perché io prendi solo un banco? Perché c'era solo un atto, un banco non c'era. Ho capito. Allora, ci posso andare a prendere stipendi, Umberto? Tu? Eh, come se ci puoi dire? E io so come ti raccogli tu. Da lì come ti raccogli io, mi pare. Tu palletti. Tu puoi sapere. Per non me ti raccogliere alcuni, ti raccogliere che lo chiedi. Allora ci posso fare domande e pensione, tutte cose insieme. Tutto, tutto, tutto. Ti saluto un pezzo. Ti saluto. Ti saluto. Ti saluto. Ti saluto. Ciao, ciao. Poi, praticamente. Che si saluto. E' la parte痛ata? ma con le privoli assicutari ne un uiei ne l'auci può aggarrari ma con un valo ruppo alla gugliata perdi il punto chiudi una volta